Salve a tutti e benvenuti sulla rubrica 1 pezzo video della domenica allora, oggi andiamo sul mio account youtube le espondiamo ai commenti di tutti però, piccola cosa, è la seconda volta che faccio sto video perchè la prima volta è venuta di 43 minuti un video di oltre 4 gigabyte e non va bene allora ho pensato di fare così prima leggiamo tutti i commenti dei due video di Roger, no? io prendo appunti e perlomeno gli argomenti centrali e poi dopo magari si fa una risposta unica altrimenti rischierei di rispondere magari su più elementi alla stessa persona, avete capito quello che intendo allora, andiamo sul mio account youtube commenti, eccoli qua però prendiamo prima il video precedente di Roger eccolo qui, andiamo in ordine scronologico scrotologico partiamo dal primo in assoluto andiamo veloci alcuni scrivono commenti solo per ringraziarvi io vi ringrazio adesso una volta e per tutte grazie mille, siete gentilissimi allora, come Giovanni Scalzo che è gentile però andiamo avanti se no facciamo un altro video di 40 minuti io non me ne esco più allora, official host parla non pensi che il potere di Roger sarebbe sgravo un'altra opzione farsi aiutare dagli elementi e dalle cose quindi un approfondimento sul potere poi vi spiego dove voglio andare a parare facendo questo tutti i metalli stanno dicendo che Kid potrebbe aver mandato il frutto del diavolo di Roger? no, non intendevo questo era più che altro per il discorso che anche i metalli sarebbero amici di Roger diciamo così allora, Baldr è il dio nordico che è stato ucciso da Hydre sì, Hydre è il famoso fratello cieco che l'ho ucciso questo qui allora questo qui è quello di quei pochi giudizi universali che hanno visto il video su Sabo quello lì famoso qualcuno possa avere un potere qui si parla della discendenza divina questo è un altro degli argomenti di cui volevo parlare grazie a Luke Walking Moon Tree dopo ne parliamo secondo me Roger ha la forma finale del Lati e non ha un frutto incantato anche Rufi ha la stessa capacità ora in town riuscì a comunicare facilmente con il suo cagnolino nei promontori degli elementi fece facilmente amicizia con lo Woon eccetera quindi il discorso di Rufi dopo vi faccio vedere come si collega mi ero talmente assorto grazie mille gente addirittura a piangere come Franchi ori, incenso e birra la birra sarebbe simbolo di Mor andiamo avanti davvero complimenti bellissimo una domanda quando prendi spunto i miti nordici li vai a cercare o nobby? no, è un hobby tranquillo, è un hobby basterebbe solo la prima parte grazie mille con l'occasione Vegapunk Vegapunk questo lo mettiamo come finale perché io ho delle robe su Vegapunk però non le posso dire adesso il video su sub uscirà no, non più è ormai andato le rogia dell'aria rogia e paramecia parame miscia o come dicono alcuni miscia va bene lo stesso c'è un legame noi parliamo con la morte di Balder inizia il crepuscolo degli dei sì, bravissimo Andrea Tirito hai colto nel segno quello che volevo dire cioè che il collegamento tra Balder e Roger si basa anche sul fatto che la morte di Balder diede inizio alla nuova era proprio come quella di Roger entrambi sapevano che stavano per morire sacrificio eccetera video bumbo penso che il potere di Roger fosse legato a un tipo di ambizione nello specifico l'achi dell'osservazione a chi quattro o a chi tre sviluppato bella domanda ne parliamo grande uno pezzo adoro seguire il tuo canale continua fino alla fine fino alla fine mi ricorda un certo tipo di una squadra ma io quando quando parlo di calcio sono molto 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 obiettivo quindi comunque grazie mille Raft poi quando inizierai il campionato parliamo anche un po' di calcio perché è un argomento particolare sono curioso di vedere la seconda parola del video grande mico di NBT l'ho fatta comunque parlerai del fatto di Uranus Uranus sì ne parliamo ne parliamo però è un off topic quindi lo mettiamo alla fine mettiamo anche questo alla fine poi ti ascolto un momento è un unico appunto prova ad alzare un po' l'audio all'alba vincerà vincerà io in realtà sarei barito questo è un tenore quindi il barito no ha proprio figaro bravo bravissimo e poi una domenica che mi ha visto non solo Roger riusciva a sentire la voce delle cose ma anche Zoro eh in effetti il discorso di Zoro spada volevo parlarne approfondire questo grazie omonimo anche io mi chiamo Stefano anche Zoro dice di poter sentire la voce delle cose eh vedi che parecchi hanno notato il discorso di Zoro Cetach 85 che ho scoperto è una ragazza e quindi avevo promesso che mi sarei peccinato un po' meglio quando facevi i video ciao Ceta ehm 85 sono dell'84 sono single da due giorni quindi se di interno lasciamo stare Don non lo devo sentire parla più allora so che non è molto pertinente ma giusto per rimarcare l'attività dell'architettura richiama Park Ghiuil sì è vero Dresserosa tra i vari punti in comune è anche il Park Ghiuil Ghiuil vi suggerisco di andare a visitare Barcellona è stupenda anche se a me è piaciuta anche molto Valencia Parachemme Gustamuccio di Spagna grande video come al solito riesce a tenermi incollato allo schermo grazie mille mi chiamano Bostic incollo allo schermo grazie comunque ringraziamento generale a tutti interessante l'osservazione delle manette del legno Roger Fruttato questo è un argomento rapido perché parecchi non sono molto d'accordo su questa storia ne rispondiamo giravoce che Roger sia in realtà Rufy aspetta molte osservazioni sono curiose anche le riflessioni bibliche storiche per interi giravoce che Roger sia in realtà Rufy e che abbia lo sanno potere di controllare il tempo non l'avevo mai sentita eh chissà ci può stare ci può stare ne parliamo Roger Rufy indietro nel tempo nel tempo in realtà più che altro c'è la frase famosa di Roger ma non riguarda il potere quindi me la volevo conservare per i seguenti video quando parleremo di Roger legato al One Piece Roger che comunque dice amico io non morirò non è una frase da poco allora veramente molto bravo complimenti grazie mille scusa ma se Roger era invulnerabile chi è riuscito a catturarlo e quindi a batterlo ma in effetti questa cosa mi ha sorpreso un po' Roger si è consegnato nessuno l'ha mai sconfitto era il più forte di tutti è per questo che sapeva che stava per morire per la malattia XX questa è stata una cosa favolosa per farla breve lui parla delle corazzate si chiamano Pluton e Uranus certo e guarda caso sono i componenti della bomba nucleare Uranus e Plutone infatti hai colto nel segno la mia risposta perché Pluton è anche l'unica ad avere il nome latino e non greco Pluton è il nome di Ade però Poseidon e Urano sono nomi greci invece Plutone è il nome latino perché Uranio è Plutonio quindi potrebbe avere a che fare con le armi poi c'è anche riferimento al Tritone che è uno dei missili nucleari balistici e quindi si collegherebbe al Tritone di Poseidon quindi questo discorso è che le armi ancestrali in effetti sono proprio armi io però di questa roba qui delle armi ancestrali come avevo detto preferirei parlarne in seguito tanto il tempo c'è un piso non finisce giovedì siamo a posto sicuramente una persona grazie dopo col dirò c'era molto piacere l'armata rivoluzionaria ne parliamo voglia che ne parliamo dell'armata rivoluzionaria ma voglia mi piace adesso passare sull'Achi Definitivo ecco Achi Definitivo però alcuni l'hanno un po' criticato io ci tenevo un po' a rispondere su questo discorso come il buon Cristiano Sarafimov che ora è russo io parlo russo se qualcuno le ha anche scrivimi in russo non ci sono problemi Cristiano Sarafimov dice la tua teoria è interessante ma qualcosa non mi convince non credo siano lo stile di Oda un potere di quel tipo sicuramente attorno alla capacità di roger c'è qualche serieto che per ora non conosciamo lo scopriremo verso la fine ci può stare io ci provo ci ho provato ragazzi io ci provo comunque a dire teorie poi ovviamente a parte che coglierci al 100% è impossibile a me già sai se riuscisse a cogliere un 30-40 diciamo perché poi Oda decide lui alla fine mi ha dato due minuti di applausi ehi corazzata con Potomkin sono anch'io appassionativo dei miti greci mi consiglieste qualche libro ossia assolutamente quelli di crescenza avevo risposto ottimo video come sempre aspetta partite che la stiamo facendo adesso mi piacerebbe automatico voyaggero come presentatore di super quark questa alla piero angel grazie non ci ho mai pensato a sto qua solo cogo può trasformarsi su un interso livello c'è questa precisazione che in effetti non è molto canonico condivido ottimo video come sempre mi appassionano è impossibile che ci sia una quarta arma ancestrale perché detto esplicitamente che ne sono tre però vabbè quando detto esplicitamente a volte poi bisogna sempre vedere però comunque ci sta per l'amor di Dio e poi un power up troppo devastante power up in effetti un potere del genere a Rufy gli farebbe vincere le battaglie così muori fanculo fanculizzati e in effetti non ci sta non è nello stile shonen che il protagonista vinca così facile sarebbe banale sei fantastico oltre a limitare varie mitologie grazie mille ragazzi spero che tu ti stia sbagliando perché la storia del predestinato non mi piace per niente e in effetti è una parola troppo grande predestinato sarebbe il caso di aggiustarla un attimino predestinato più che altro protagonista diciamo così facciamo un piccolo discorso su questo si segue sicuramente massimo esperto massimo esperto questa parola che ogni tanto ritorna non ho mai capito bene che significhi comunque massimo esperto grazie mille penso che qualcuno dell'armata avessi potere zonde corvi punterei su quel ragazzo che salvò nico robin quello lì che si prende il giornale ecco però quando facciamo il video dell'armata ne parliamo vedete che alla fine alcuni commenti si somigliano quindi risponderei direi tre o quattro volte la stessa cosa vediamo prima i commenti e poi facciamo la risposta unica geniale come sempre la teoria su balde mi piace moltissimo sullo stormo dei corvi lo zone risvegliato può controllare tutti lo zone risvegliato può controllare tutti gli animali zone risvegliato e risveglio visto che l'altra volta avevo buttato sta grande bomba del fatto che il collegamento tra il controllare le cose si collegasse anche al paramice a questo punto ne parliamo collegamento fra frutti e potere questo qui delle cose io partirei da questa cosa qui nella risposta ho detto molte cose che avevo più o meno in mente ma non riuscivo a metterla a fuoco e sono un piromare brucio tutto la prossima teoria grazie mille massimiliano ti prego devi parlare assolutamente le mancestali e ne parliamo in seguito vista l'abilità di roger parlare in qualche modo legato lui roger è l'albero dei frutti del diavolo adam e eva i due alberi visti finora ne parliamo ne parliamo degli alberi di one piece rafter e tutto il resto andiamo con calma ne parliamo e secondo me lì i commenti saranno un bel po' la vedo che è l'argomento che piace a molti la tua teoria sulla capacità di dire che cose è davvero bella se fosse così sarebbe facilmente comprensibile perché il gol di roger diventa dire dei pirati beh o è questo un altro motivo ma comunque roger sicuramente era un cazzuto fortissimo non ci avevo mai presente un potere così sarebbe invulnerabile anche per dragon ball grande cacchio fa il video su Stavo il mitico TNBT ci dice il fatto che Rufy possa essere l'erede in tutto e per tutti non mi piacerebbe molto nel senso che se loro due possiedono un partito anche se in effetti essendo uno show è un'idea probabile ecco e qui si ricollega al discorso del predestinato diciamo che Rufy giustamente è simpatico perché lui le battaglie se le suda perde sangue e vincere troppo facile con un potere del genere sarebbe un po' diventerebbe antipatico puzzo sotto al naso invece ci terrei a specificare questa cosa perché non vorrei aver dato questa impressione grazie dei commenti ragazzi video superlativo potenzialità inimmaginabile quello è il gear forte con le potenzialità inimmaginabili comunque grazie mille episodi in antivisi in effetti l'ho tirato via un po' prima proprio per fare questo video qui più commenti c'erano meglio era allora io penso che Dragon sia Uranus non riuscirei ad immaginarmelo a un frutto come quello di Enel perché a Log Town a Savarelufi è stato lui con quel fulmine e non è il frutto Goro Goro Dragon e il suo potere che si collega potere armata ok abbiamo visto un po' tutti i commenti facciamo il discorso oh è arrivato qualcosa uuuuh questo video non poteva questo video poteva intitolarsi la mistica di One Piece la mistica di One Piece mi piace poi di questa cosa ok andiamo con le risposte allora iniziamo con tutte le nostre care risposte risposta numero uno al quesito principale cioè la critica diciamo così sul discorso del predestinato allora io non vorrei aver dato un'influenza no un'impressione scusate sbagliata perché non vorrei ovviamente che Rufy diventasse il predestinato e quindi vincesse le sue battaglie troppo facilmente con un potere del genere in effetti diventerebbe invulnerabile se ne uscirebbe pulito come Zoro a fine battaglia e lo renderebbe anche un po' antipatico allora il discorso del predestinato si collega più che altro un discorso letterario dei generi che comunque Rufy è il protagonista a voi piacerebbe che Rufy morisse ucciso da un kid? ovvio che no Rufy deve vincere e ovviamente deve riuscirci facendosi un culo così quindi diciamo che anche se dovesse raggiungere quel potere lì innanzitutto ci arriverebbe proprio poco in parte e poi ci arriverebbe proprio durante la battaglia finale all'ultimo capitolo ma non che ci arriva adesso e batte Kaido così big mom il discorso del predestinato è che comunque scusate ma Rufy è il protagonista cioè alla fine non è non chiamavolo predestinato chiamavolo personaggio principale ma alla fine quello è cioè deve vincere altrimenti contro Doflaminco perde muore Rufy finisce One Piece ecco più che altro per quello se c'è in fondo già abbiamo visto Rufy è l'unico finora oltre a Roger che ha sentito le voci dei re dei mari neanche Silver Ray ci riusciva quindi ecco questo è il discorso diciamo quindi non un Rufy che diventa immortale invincibile e vince tutto facile semplicemente per il fatto che comunque se proprio qualcuno deve prendere sto potere o una parte di questo potere magari potrebbe essere Rufy potrebbe prendere la parte del potere solo legata a quello che gli permette di raggiungere One Piece e Rafter diciamo e non quella legata al combattimento quindi Rufy sentirà la voce delle cose solo perché riuscirà a trovare Rafter magari e basta non per il combattimento allora poi oddio che cazzo ho scritto guardate che cazzo ho scritto questa è la mia scrittura ragazzi qualcosa di fantastico allora sulle armi ancestrali e sul dottor Vegapunk io ho delle teorie che riguarda molto il Sud America popolazioni vissute tanto tanto tempo fa e ci sono dei collegamenti anche con un tizio che ha il nome un po' simile a Vegapunk ovviamente Vegapunk è stato americanizzato con questo punk eccetera però ha a che fare con alcune cose però ne parliamo in seguito però c'è un discorso sui corvi Sabo e il potere dei corvi che seguono le correnti del vento e quindi la domanda è e se i poteri di quelli dell'armata fossero legati a Dragon? pensateci anche il fuoco di Sabo adesso si lega molto al vento di Dragon perché se io ho il fuoco più vento c'è il fuoco aumenta un po' di pioggia e il fuoco si spegne che magari tutti quelli dell'armata hanno tutti i poteri che si legano a quelli del loro leader è una bella idea però ne parliamo in seguito di queste robe allora Roger Fruttato il discorso di Roger Fruttato secondo me io avevo detto può essere un po' tutto però non ci credo che Roger sia Fruttato in fondo il suo grande avversario era Garpo un altro non Fruttato spesso si sfidavano pugno contro pugno quindi non credo sia Fruttato Roger sia un tipo di Aki allora qui si parla di Aki un quarto tipo di Aki o lo sviluppo all'estremo dei precedenti tre potrebbe anche essere lo sviluppo all'estremo dei precedenti tre perché faceva notare nei commenti non mi ricordo chi che dopo magari cerchiamo il nome che allora l'agri dell'osservazione è la capacità di intimidire le persone scusate l'agri del re conquistatore è la capacità di intimidire portata a livelli da manga no? quindi proprio esagerate l'agri dell'osservazione ce l'abbiamo un po' tutti è la capacità di prevedere qualcosa anche di sentire se sta venendo a piovere per dire e grazie a quello ha sconfitto Shiki Roger sconfitto ma comunque stava avvertendo magari il maremoto chissà e l'agri dell'armatura è la nostra capacità di difendere e attaccare il combattimento Roger potrebbe aver portato all'estremo questi tre tipi di Aki quindi così come il Gear 4 e l'unione di 2nd e 3rd potrebbe essere semplicemente che questo Aki finale non sia che lo sviluppo di tutti e tre gli Aki messi insieme qui ci ricolleghiamo un altro discorso che succede se si sviluppa fino all'estremo il potere dell'Aki del Reconquistatore bella domanda cioè vi faccio un esempio banale si diceva anche lo sviluppo del risveglio dei frutti allora un paramicia potrebbe risvegliare il frutto in che modo io ho il frutto della cera Mr. 3 tocco il microfono e trasformo il microfono in cera perché ho risvegliato il mio frutto ma se contemporaneamente il microfono lo tocca anche Doflamingo e vuole trasformarlo in corda il microfono è una parte di chi va? zona risvegliata potrebbe avere il potere di controllare gli animali io ho un corvo che è un volatile è un animale ed è un corvo allora c'è un corvo uno zoon zoon corvo che è risvegliato ma al tempo stesso c'è anche un volatile risvegliato e c'è Kaido che controlla tutti gli animali tutti e tre avrebbero il potere di controllare questo corvo e il corvo da chi va? attenzione potrebbe nascere un nuovo tipo di sviluppo di battaglia in One Piece cioè non solo una battaglia fatta di forza contro forza ma anche una battaglia di Haki contro Haki spesso chiedevano ma sto Haki del Re Conquestatore in fondo non serve a un cazzo serve solo a far fuori i deboli contro i forti non serve e invece chissà che non nasca un nuovo tipo di combattimento basato su l'Haki mio contro l'Haki tuo entrambi possiamo controllare questo oggetto o questo animale entrambi ci proviamo e vediamo alla fine tra i due chi la spunta quindi una battaglia mentale e fisica bella idea bella idea ci sta ci sta vedete parlando di Roger a volte si vengono in mente anche altre cose poi il discorso delle armi ancestrali urano e plutonio io ho una mia teoria però serve soltanto perché l'ho nominata solo per fare pubblicità ai miei prossimi video nel senso che quando in seguito parleremo delle armi ancestrali magari collegate sempre a Roger avrete più intenzione di vedere i miei video diciamo così allora che cazzo ho scritto questo predestinato questo l'ho detto il fatto del predestinato allora ascoltate anche un'altra cosa Sabo a un certo punto quando fa fuori nel senso mette capo Burgess dice si gira e fa Ace dice che due punti apri virgolette non mi interessa manco quello che dice ve l'ho andata a rileggere il capitolo volete l'inchino ma il punto è un altro che cazzo le sa Sabo di cosa dice Ace anche in inglese anche in giappone a Ace dice che due punti come può Sabo riportare una frase detta da Ace a Burgess io penso che sapete che in One Piece c'è questo discorso dell'eredità la volontà ereditata eccetera se io ho un grande amico che un fratello che è morto che è possedevo in mera mera ed è morto io mangio il mera mera e se io mangiando il mera mera riuscissi a sentire dentro di me il mio il vecchio possessore o addirittura tutti i vecchi possessori del mera mera e se il frutto stesso si evolvesse cioè da flamingo ha risvegliato il frutto delle corde una volta che muore un altro mangerà il frutto delle corde se lo ritroverà già risvegliato o no se sì altra domanda il punto è questo attenzione attenzione e se i frutti roggia non fossero altro che ex paramice risvegliati cioè io ho il potere del magma però sono un paramice quindi l'unica cosa che posso fare è produrre magma ma se uno mi dà una coltellata mi uccide però riesco a risvegliare questo potere e adesso posso modificare gli oggetti e modificare anche il mio corpo in magma un po' come Doflamingo che pian piano è riuscito ad autooperarsi da solo è un primo passaggio per diventare roggia dopo aver sviluppato così bene il mio frutto muoio ovviamente come tutti perché l'età è quella moriamo tutti la persona successiva mangerà questo frutto e si ritrova già a roggia ad esempio un'idea un'idea la butto lì chissà anche perché ci sono degli zoan che al tempo stesso hanno potere cioè anche monette monette è una zoan in un certo qual modo perché alla fine è un'arpia è una yokohone però poi c'è da parlare su monette fa il famoso video ma al tempo stesso è un roggio della neve si collega molto bene al discorso dello yokohone però il punto è un altro ma allora è uno zoan contemporaneo a roggio che cazzo è? che stiamo vedendo in One Piece ultimamente? che sono tutti questi frutti messi insieme i risvegli? se il frutto stesso avesse una sua eredità Sabo in questo momento ha dentro di sé un pezzo di anima di Ace faccio un esempio potremmo vedere Sabo che ha un incubo e quell'incubo era un precedente sogno di Ace quindi legami fra anime e quindi se anche Rufy chi è il predecessore del frutto Gom Gom? e perché ce l'aveva proprio Shanks? perché Shanks aveva il frutto Gom Gom? e perché Shanks è così affezionato a Rufy dopo che ha mangiato il Gom Gom? come se dicesse allora sei stato tu a prenderti sto frutto bene allora devo essere legato a te chi era il precedente possessore del Gom Gom? non dico che sia Roger però chi era? tante domande buon pistiane ragazzi il power up questo si collega al discorso sì in effetti se Rufy avesse un power up così forte le sue battaglie farebbero schifo quindi sono d'accordo il discorso del predestinato la discendenza il potere Vegapunk Roja l'abbiamo detto Uranus Zoro con la spada sì in effetti questo qui è una cosa che mi dava conferma sul fatto che attraverso la spada di Zoro attraverso il potere della spada può sentire gli oggetti quindi così come Doflamingo riesce a sentire il microfono attraverso il potere del suo frutto Zoro ci riesce attraverso il suo oggetto che è la spada usando come esempio il mitico TNBT che a quanto ho capito è un appassione di tennis non so se sia anche tenista agonista eccetera eccetera ma il punto è che un tenista dopo anni e anni di pratica con la racchetta a un certo punto la racchetta non è più un oggetto esterno è un'estensione del suo braccio perché gli è entrata proprio nel corpo lo stesso vale per un chitarrista vale per uno spadaccino quindi si collega al discorso che o ti chiami Roger e parli con le cose o anche riesci a comunicare con le cose attraverso o il tuo potere che può essere la spada la racchetta o anche attraverso il tuo frutto quindi ci sono due tipi di comunicazione diciamo due per semplificare o attraverso il proprio potere o attraverso un linguaggio diretto mi pare ovvio che il linguaggio diretto ti rende un po' più forte perché tu senti il potere delle cose però concludendo ecco non vorrei aver troppo esagerato quindi non credo che il potere di Roger sia proprio un potere di immortalità anche perché alla fine comunque quei due l'hanno ucciso Roger però tutto da vedere però diciamo che questo potere potrebbe essere trasformato tradotto in un linguaggio più one-pissiano potrebbe essere semplicemente questo non che Roger parlasse con le cose e dicesse metallo non uccidermi però magari l'acchi dell'armatura Roger potrebbe ad esempio essersi allenato come si allenano i grandi combattenti dando pugni all'acqua tipo Sirio il dragone nei cavali dello zodiaco lui aveva questa sensibilità così magnifica da riuscire a sentire l'acqua e entrare in simbiosi con l'acqua e sviluppare un tipo di armatura di acchi dell'armatura legato all'acqua cioè se avesse conosciuto un Roger o un paramicio o semplicemente una persona che sfruttava l'acqua lui sapeva come colpirla lo stesso vale per il fuoco vale per lo spadaccino in pratica Roger aveva un potere universale perché la sua sensibilità di percepire gli elementi gli permetteva di avere un'acchi dell'armatura così completo che poteva dare un pugno a Garp o un pugno ad Acaino o un pugno a Rufy di gomma o quello che vuole sapeva sempre quell'acchi in che modo bilanciarsi in base all'elemento della natura come o ci aveva parlato di questo elemento della natura oppure semplicemente lo aveva dedotto dalla sua super sensibilità e qui arriviamo al punto chiave e concludo la sensibilità Roger come Rufy hanno due caratteri molto diversi per dirne una Roger beve alcol dalla mattina alla sera Rufy è astemio Roger è uomo Rufy è in fondo un bambinone però una cosa in comune secondo me la sensibilità entrambi sono molto sensibili percepiscono avvertono le cose e hanno un animo particolare che è l'animo non dico più del predestinato ma comunque è l'animo tipico dei protagonisti degli shonen Goku è un bambinone fino alla fine lo è il rapporto anche col sesso con la sessualità vedete i protagonisti Jin Gon scusa Gonfrix Goku è un rapporto molto Naruto sono tutti gli eterni bambini in fondo e ci sta ci sta perché poi questo eterno bambino lo differenzia dal precedente eroe Roger io lo definirei un uomo Rufy è un ragazzo ecco anche un po' bambino quindi sono comunque separati i due cosa hanno in comune se non proprio Westachie ma comunque la sensibilità di percepire le cose perché Rufy sente la voce dei re dei mari questa è la vera domanda un potere del frutto no non c'è zecca nulla perché due caratteri così diversi quello di Rufy e quello di Roger ma entrambi hanno sentito la voce dei re dei mari perché evidentemente perché entrambi hanno una cosa che gli altri non hanno la sensibilità puoi averla perché sei un bambinone puoi averla perché ti chiami Goldie Roger hai la D nel nome ma non tutti quelli con la D sentono la voce dei re dei mari credo che sia semplicemente quello la sensibilità e qui ritorniamo a quel discorso finale che alla fine l'unico vero grande obiettivo di One Piece è anche tra di noi fan commentatori chi fa i video eccetera farci diventare amici questo è il vero potere di One Piece non che sia questo il One Piece sia ben chiaro One Piece sarà forse un'arma qualcosa però ci sta facendo diventare amici e ci sta facendo emozionare ci sta facendo criticare però comunque ci sta facendo fare delle cose che senza One Piece non avremmo fatto l'obiettivo finale è molto più ampio e trasversale cioè la sensibilità l'emozione quella forse è la grande lezione finale che ci vuole dare Oda a prescindere di cosa sarà One Piece pensateci ciao ragazzi alla prossima